Nella puntata precedente Scusa, posso scorreggiarti anche io Nella mano Certo Mi può fare un rocchettone, telecamera Magari la prossima volta Sei uomo Mio padre Edizione straordinaria del telegiornale Della Lore Di nuovo panico per il giovane Streamer Simone Panetti Oktar, il mostro che aveva rinchiuso Simone Panetti Nelle tenebre ormai un mese fa Dopo essere stato sconfitto da Dario Moccia Trasformatosi in Hector Per riportare la pace nel mondo di Twitch E ricomparso di nuovo schiavizzando Lo streamer Panetti con video di coreane Per ora Oltre alle coreane sappiamo solo che Dario essendo nel suo nuovo studio Non potrà più fare affidamento ad Hector Vi terremo aggiornati nelle prossime Ho rinchiuso Il mostro streamer Panetti In una realtà fettizia Ma che Comunque segue i suoi gusti Il mostro veganino sta vivendo In una realtà costruita Una realtà fatta di zeri E uno Una realtà Credo che Oktar abbia cambiato Completamente tecnica ragazzi Sta schiavizzando Simone con dei video di coreane Ciao Oktar Dov'è Simone? Simone sta vivendo la sua vita Liberalo Perché mai dovrei liberarlo Dario? Perché sennò te la vedrai con me Come al solito Tu non puoi fare niente Oktar Oktar è ovunque Oktar è tutto Oktar non può arrivare dappertutto E lo sai Hector non è qui con me Perché sono in studio L'hai pensata bene questa Adesso basta Oktar Questo finisce qua Oggi Stasera Ma non posso farcela da solo Non posso farcela da solo Purtroppo Cosa sta succedendo Dario? Cosa hai in mente? Cosa hai in mente? Non puoi niente contro di me Dario? Oktar Mi senti? Mi senti? Mi senti? Mi senti? Ma non mi vedi Eccomi Oktar Eccomi da te Dario Sai che Come ti ho detto prima Ora Non ho Il mio alter ego A proteggermi Ma a volte non ho bisogno Di un alter ego A volte Bisogna semplicemente Farsi aiutare da un amico A volte Per recuperare un amico Dall'oltretomba E sconfiggere i suoi mostri Bisogna usare il potere Dall'amicizia Cosa Intendi Dario? Ricordi le carte della lore? Le carte della lore Ti avevano messo in difficoltà Ma so che probabilmente Resisterei a un altro attacco Della lore Quindi ho deciso di portare La lore Qui Con me Non 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 Il mio Sendo Non 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 no 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 va a te pari niente niente ah ahahahah ok, arrrediti prima che sia troppo tardi non mi fai usare l attacco finale non mi fari usare l attacco finale rarmi arrrediti prima che sia troppo tardi Ma se non ci resta altra scelta La scelta dei compagni inseparati No! Cosa stai facendo? No! Cosa stai facendo? Non fa niente! E riportiamo a casa Panetti! No! La FUSIONE NO! La FUSIONE NO! Spero che tutto questo sia servito al nostro fratello Simone E che si sia liberato da quella presenza oscura e maligna Lo è, lo è! No! Montaggi dinamici e freschi Un freebooter che va agli alto Non si ferma proprio mai Con il montaggio di Capogabbooter!